weh non fare il pollo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone dai e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente la notizia è ufficiale tra pochissime ore avremo la possibilità di scaricare la nuova patch 8.1 di fortnite quindi ragazzi un bel po di news nei prossimi giorni e soprattutto di leaks nel video di oggi ragazzi parleremo appunto nel dettaglio della nuovissima patch del nuovo aggiornamento ma vedremo anche una immagine super interessante che sta incominciando a fare un bel po di giri nel web e potrebbe essere un grande aggiornamento alla mappa già esistente parleremo anche di una funzione che forse non tutti sapete è stata messa a disposizione da epic games e che creerà un video personalizzato per le vostre statistiche nella scorsa season prima però ragazzi voglio ringraziarvi tantissimo per utilizzare il mio codice creator xyuderone e quindi il vostro supporto è davvero super importante vi ricordo anche dove cavolo è finita di iscrivervi in tantissimi al canale ragazzi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento e nessuna delle mie live ma prima ragazzi la domandina la domandina sapete che io ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qui sotto e la domanda di oggi è un po particolare qual è secondo te la skin più brutta del gioco pensaci bene io so qual è la mia e la skin più brutta secondo me è valore mi fa cagare la skin mi fa cagare il piccone mi fa cagare il deltaplano quindi ragazzi secondo me è veramente la skin peggiore di fortnite fatemi sapere qual è secondo voi la vostra qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare eccolo qua ragazzi il messaggio ufficiale che avrete tutti nella vostra dashboard di fortnite che annuncia appunto l'arrivo della nuova patch la 8.1 alle ore 10 probabilmente farò una live speciale ragazzi molto probabilmente mi troverete già online a quell'ora poi andremo avanti fino al primo pomeriggio e sappiamo tutti ragazzi che con questa patch abbiamo già il nuovo veicolo in arrivo ovviamente la girosfera ci è stata preannunciata un paio di giorni fa direttamente da epi games nelle news di gioco un veicolo davvero super interessante anche super particolare alcuni ragazzi addirittura associano e posso capirlo la girosfera a jurassic park associandolo quindi anche all'anno all'enorme impronta di dinosauro che è presente dalla season 4 tipo e non si è mai capito a che cosa servisse perché si diceva fosse un leviatano gigante mesi e mesi fa poi in realtà non è stato così insomma c'è quella impronta rimane lì la girosfera comunque ragazzi è indiscutibile l'abbiamo già vista appunto in jurassic world scusatemi ragazzi non jurassic park sappiamo in anteprima che dovrebbe avere 800 punti salute questo è un dato che viene detto da un leakers abbastanza famoso non potrò garantirlo fino a domani vediamo che avendo il rampino appunto può arrampicarsi su varie superfici e insieme ragazzi alla girosfera nella patch si dice anche che arriverà una modifica nella mappa una modifica davvero molto molto interessante ragazzi ma prima di parvela vedere volevo un attimo parlarvi della season 7 in breve ragazzi forse non lo sapete ma da poche ore è possibile richiedere gratuitamente ovviamente nel sito di epigames il recap della vostra season 7 che cos'è il recap è il video riassuntivo delle vostre performance nella scorsa season il link ragazzi è questo qua ma ve lo lascerò ovviamente anche in descrizione in modo che sia più facile per voi copiarlo e incollarlo basta solamente che andate in questa pagina logandovi nel sito di epigames e avrete il vostro video che vi dirà alcune statistiche sulle vostre performance della scorsa season quindi sicuramente un lavoro assolutamente apprezzabile da parte di epigames ma ragazzi andiamo avanti e parliamo anche di un'altra notizia incredibile alle mie spalle lo state vedendo una delle skin che più ha sollevato polveroni nella community di reddit ma anche nel mondo di youtube da parte di chi aveva acquistato una scheda grafica geforce anche per la skin dai mi rifiuto di pensare che qualcuno abbia esclusivamente acquistato una geforce solo per una skin e 2000 vbux però posso capire che il fatto di avere una skin esclusiva era fonte di pregio da parte di alcuni giocatori che cosa è successo lo sappiamo tutti ragazzi qualche giorno fa nello shop è stata proposta sia la versione maschile che la versione femminile della skin reflex che è quella che stiamo vedendo arriva e sembrerebbe essere ufficiale un messaggio da parte di epigames in risposta ad un grande youtuber che parrebbe confermare l'intenzione da parte di epigames di creare uno stile personalizzato per chi ha acquistato la skin e la riscattata dalla scheda grafica quindi non l'ha presa nello shop a parer mio è una cosa giusta un po come lo school trooper chi lo aveva preso nella season 1 ha lo stile viola cosa che non ha nessun altro e quindi non vedo perché non fare la stessa identica cosa anche per chi ha acquistato la skin dalla scheda grafica ma andiamo avanti ragazzi ed eccola qua sbam questa è un'immagine super incredibile un concept davvero molto curioso molto interessante ne parlano davvero in tanti ragazzi ho voluto portarvelo perché vorrei sapere che cosa ne pensate voi qua sarebbe anche plausibile però pensare che il percorso della lava in game non sia finito a quello che noi vediamo fino ad oggi ovvero sia durante le varie patch del gioco come per la season 7 lo scioglimento del ghiaccio anche per la season 8 l'incremento della lava continua ad esserci in ogni patch importante come quella che arriverà appunto fra tre ore secondo me è un po azzardato pensare che la lava ricopra totalmente il nostro sprofondo stantio voi cosa ne dite ragazzi non è sbagliato pensare che il fiume di lava possa continuare non ne vedo la finalità se devo essere sincero cioè ok continua il fiume di lava quindi non lo so però secondo me il fatto che ricopra completamente sprofondo stantio è un po esagerato staremo a vedere se ci saranno modifiche alla mappa in questa pace ma andiamo avanti ragazzi è un'altra notizia interessante forse che vi solleverà dai vostri dubbi è il drift board ovviamente la gente si è detto cavolo non è che adesso mettono dentro la girosfera e tolgono il drift board beh ragazzi arriva direttamente da epic games dallo staff una delucidazione su reddit e scrivono lì bello in grande do not vault drift board non toglieremo il drift board a me personalmente piace tantissimo come veicolo a un sacco di ragazzi nella community piace tantissimo come veicolo e agli stessi sviluppatori è la cosa che i ragazzi siano soddisfatti piace tanto quindi ragazzi drift board non verrà assolutamente rimosso e rimarrà insieme a tutti gli altri veicoli che per adesso sono rimasti in game da ragazzi che dirvi per oggi ve le ho dette davvero tante non ci resta che aspettare la pace 8.1 alle 10 molto probabilmente mi troverete in diretta io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao